Roberto Pereira Gran palla questa, posizione invitante 1-0, gara che cambia subito spartito Gol nato sugli sviluppi di questo possesso prolungato Difesa che rimasta a guardare nella circostanza E azione che merita di essere rivista Pericolo Allontana il difensore su questo tiro E' andato vicino a segnarne un altro Ma il portiere stava La gira su Lukaku Tentatimo che finisce fra le braccia del portiere Sono sotto di uno, devono provare Difende bene il pallone Conclusione da dimenticare Palla col contagiri Il pubblico lo invita a calciare in porta E' efficace l'intervento del portiere che salva Renato Sanchez E la mette Risultato che torna in parità Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti